il file l'avete già scaricato? Tanto è indifferente perché io ve ne do comunque versioni sempre più aggiornate, questo è giusto se volete seguire se arrivate di qua. Allora abbiamo introdotto un altro ragionamento per venire incontro a quello che dicevano quelle due comprescatole che stanno lì ed effettivamente è una cosa che ha un senso, anzi lo scrivo anche qui, cioè che cosa ci viene automaticamente dal web marketing, cioè di gente che arriva sul sito e compra, qualunque cosa essa sia quella che stiamo vendendo, che cosa ci viene perché i commerciali vanno in giro e vanno a vendere, qui lo si vede un po' meglio, dunque nella parte dei ricavi vedete che io ho alimentato questa linea dei commerciali che viene da un altro funnel del quale vi consiglio di prendere visione e comprensione, il funnel dei commerciali è una cosa abbastanza standard, si comincia da, la prima cosa è quanti commerciali ho, questo l'avevamo deciso qui, il funnel è unitario, cioè riferito al singolo commerciale, cioè un commerciale in un giorno quante visite può fare? Partiamo da questo, è chiaro che se si tratta di clienti che hanno bisogno di una forte attenzione si mette un numero, se si tratta di un vero e proprio porta a porta modello Stenum si mette un altro numero, ho buttato lì un 5 tanto per mettere un numero, quindi 5 visite al giorno, grazie a beneficio di voi 4 che entrate adesso stiamo rivedendo anche il funnel dei commerciali, cioè noi abbiamo a stipendio dei commerciali che cosa fanno questi? Vanno in giro, fanno 5 visite al giorno, ogni 5 visite un terzo diventa cliente, quindi se fanno 3 visite su 2 hanno perso tempo uno è diventato cliente, è abbastanza ottimistico questo tasso di conversione, quel singolo cliente che catturano vale 500 Euro, sono in giro per 23 giorni al mese, vedete la formula dei giorni lavorativi, quindi faranno 115 visite in totale, 23 giorni per 5 visite al giorno, di queste circa un terzo appunto diventano vendite, i ricavi generati da questo commerciale sono quindi in un mese 18.975 Euro, a questo commerciale io devo riconoscere una FII del 20%, l'ho immaginata io del 20%, quindi gli do circa 3.000 Euro e a me azienda entrano in tasca 15.180 Euro. Anche questo è una cosa puramente ipotetica, non ho nemmeno in testa un prodotto specifico che possa essere la base di questa vendita e qui io ho immaginato un funnel dove le vendite sono istantanee, cioè è tipo la licenza del software, il commerciale va in giro e vende, l'uomo stenom, vende una scopa elettrica, va da un'altra parte e vende un'altra scopa elettrica. In realtà, soprattutto se ragioniamo di software o di servizi, gli incassi che il commerciale può procurare sono ricorrenti, quindi il funnel va strutturato in maniera un po' diversa, ovvero tante visite faccio al giorno, sto in giro per tanti giorni, porto a casa tanti clienti, il fatturato generato da questi clienti fino a quando dura, qui invece ho immaginato che in un'unica occasione, in un mese, mario in tasca 19.000 Euro. In realtà questi 19.000 Euro potrebbero essere spalmati, lo possiamo immaginare come quello che la signorina lì chiamava il… com'è? Sì, ma ragiona così, immagina che tu gli stai vendendo un servizio a fee ricorrenti, cioè pagano tanto al mese, fanno il valore attuale di tutte queste robe e te lo fai pagare una volta sola. Questo 18.975 è quello che si chiama il lifetime value del cliente, cioè il valore di questo cliente per una vita. Invece di prendermelo tanto al mese, lo prendo tutto, è una formula commerciale, non esiste, vi sto facendo un'approssimazione, scusatemi, cerco di essere più chiaro perché altrimenti mi confondo le idee. La regola è, se si tratta di incassi ricorrenti, è che io faccia il mio funnel, al termine del mio funnel non ho gli incassi, le vendite che faccio a questo cliente in un'unica occasione, ma ce le ho spalmato mese per mese. Quindi avrò una tabella dove in questa riga ho le vendite, gli incassi che mi vengono, scusate, le vendite che mi vengono dai commerciali nel primo mese e ce le avrò tipo qui. Qui avrò le vendite fatte dai commerciali nel primo mese per la parte che incasso in questo mese. Qui le vendite fatte dai commerciali nel primo mese per la parte che incasso in quest'altro mese, ma le vendite sono sempre avvenute qui. Ma qui i commerciali mi vanno ancora in giro e mi fanno altre vendite. Queste vendite le incasso un pezzetto qui, un pezzetto qui, un pezzetto qui e così via. Ma qui continuerò anche a incassare queste gialle. Dove? Che ho fatto? È chiaro come va strutturato? Allo stesso modo qui è bellina, così è colorata, ci divertiamo di più. No? È così. Qui mi posso tirare una somma di tutto quello che ho fatto. Chiaramente zero perché non ci ho messo i numeri. E o meglio, se faccio una somma messa qui sotto, che mi prende tutto questo spazio che vedete fibrillare, quelle sono tutte le vendite del mese. Non perché sono state generate in quel mese, in realtà un pezzo è stato generato dal giallo all'epoca, un pezzo è stato generato dal rosso all'epoca, un pezzo è stato generato dal verde il mese scorso, un pezzo è generato dal blu questo mese. Tutta sta roba sono gli incassi, diciamo così, di questo mese. E questo è appunto il totale degli incassi di questo mese, ed è quello che andate a mettere nel conto economico. Fin qui tutto chiaro? L'ho incasinata abbastanza questa cosa? Che cosa faccio io qui? Un'approssimazione che mi serve per semplificare il piano, se no vi devo costruire un modello un po' troppo strutturato, che è dire questo 18,975 è come se fosse la somma di questo, più questo, più questo, più questo, fino a quando mi durano queste vendite del giallo, attualizzate, cioè portate ad oggi. Sul concetto di attualizzazione ci torneremo dopo, immaginate che sia la somma di tutte le vendite fatte dal giallo in quel mese. Vi è chiaro? Il valore oggi di quello che un cliente può generare per me in tutta la sua vita come mio cliente, insomma, se tutta questa roba che lui può creare per me in tutta la sua vita come mio cliente la porto ad oggi, quel valore si chiama lifetime value del cliente. Nel digitale si fa, ma in qualunque attività si fa un ragionamento molto banale, acquisire un cliente costa, costa di marketing, costa di commerciale, costa di overhead, costa, bisogna spendere per acquisire un cliente. Questa somma di soldi che bisogna spendere per acquisire un cliente si chiama CAC, non è la CAC, è Customer Acquisition Cost. Questo CAC va confrontato con l'LTV che è il lifetime value, cioè quanto questo cliente può generare per me in tutta la sua vita come cliente. Se il costo di acquisizione del cliente è più alto del valore del cliente per una vita, mi conviene fare quello che sto facendo o no. Sono scema se lo faccio. A meno che non si tratti di una situazione transitoria, che cioè i cosiddetti early adopter, i miei primi clienti, io sono disposto a pagarli cari, perché poi devono essere un po' gli ambasciatori del prodotto che io sto cercando di portare in giro, perché che viralmente mi aiuteranno a produrre altro fatturato, e cioè mi permetteranno in futuro di abbassare il costo di acquisizione del cliente. Allora sono disposto oggi a sostenere un costo di acquisizione del cliente più alto. chiaro? Adesso muro? Elimino tutta sta roba. Comunque sia, questo è tutto il fatturato che mi becco nel mese. In realtà è una curva che fa così, io l'ho fatta un po' più piatta. L'ho portato qui sopra, mese per mese, e l'ho portato qui sopra, qui dentro, in tutto l'anno. Ora, quello che vedete qui è il tipico conto economico di una start-up di successo, ma ci torneremo, perché la storia non finisce qui. Ci sono due fattori da considerare. Il primo è che io devo costituire la società, mi metto qui. Devo comprare licenze software, verosimilmente, e che altro? Magari proprietà intellettuale, brevetti, marchi, o cose del genere. Ed è tutta roba che produce utilità per più di un anno. È un investimento, non è un costo. La costituzione della società è l'investimento per eccellenza, perché è quello che si spalma su tutta la vita della società. Le licenze software ti producono utilità per almeno tre o quattro anni. Un brevetto dovrebbe fare anche di più. Quindi sono investimenti, non costi. Immaginiamo che io, per semplicità, debba spendere 50.000 euro di investimenti, fra costituzione società, licenze software, è roba immateriale, non fisica e tangibile. Questo modellino, diciamo, ti genera direttamente gli ammortamenti. Che cosa sono gli ammortamenti? E qui mi serve un momento di attenzione sul piano contabile. Lo so che dopo pranzo questa cosa è pesantissima, però cercate di concentrarvi sul concetto di ammortamento, perché se l'ho capita adesso, l'ho capita per tutta la vita, secondo me. Vi dicevo, la differenza fra un costo e un investimento sta nel fatto che il costo esalisce la sua utilità nell'anno, l'investimento la produce per più anni. Immaginiamo che un investimento produca utilità per tre anni. Se io voglio qualunque cosa sia questo investimento, se questo investimento dopo un anno me lo voglio vendere, non avrà più certo il valore che aveva all'inizio, perché ha già prodotto utilità per un anno e ne potrà produrre soltanto per altri due. Quindi, in un mondo perfetto, questo investimento alla fine del primo anno varrà i due terzi di quello che valeva all'inizio. Quel terzo che si è perso per strada può essere visto in due modi. L'utilità che quell'investimento ha generato nel suo primo anno di vita è il valore di quell'investimento che io ho consumato, cioè la perdita di valore nel primo anno di vita. Utilità che ha generato, è una macchina per fare le scarpe, mi è servito per fare le scarpe, consumo perché la macchina si è usurata. Non produrrà più effetti per tre anni, ma soltanto per due. Sono due facce della stessa medaglia. Quella medaglia si chiama quota di ammortamento ed è la quota del valore iniziale di quel bene che io devo sottrarre dal valore del bene perché a fine anno abbia una misura affidabile del valore residuo di quel bene. Il bene valeva 100, l'ho consumato barra utilizzato per 33 il primo anno, alla fine dell'anno vale 100 meno 33, 67. Questo 33, da un punto di vista contabile, è un costo. Cioè è quanto io, se vi ho detto il costo è l'uscita di cassa che genera utilità nel corso di un anno. Questa è la parte del mio investimento, della mia uscita di cassa che mi ha generato utilità in quell'anno. Questa è la quota di ammortamento. Chiaro l'ammortamento o ve l'ho steso anche su questo? Datemi un segno di vita, cacchio, perché non riesco a capire se arrivo o non arrivo ed è abbastanza importante. Adesso muovo, ci siamo arrivati. Eccola qua, in conto economico si mette qui, sotto il margine operativo d'ordo. E dopo vi dico perché. Vedete che nel primo anno è la metà. Perché per convenzione contabile gli ammortamenti nell'anno in cui si è fatto l'investimento si computano per il 50%. Cioè si ipotizza che il bene sia stato acquistato a metà anno. E quindi produce utilità, barra si consuma, ma soltanto per sei mesi. Gli investimenti non sono soltanto immateriali, o meglio, quelli immateriali probabilmente ne dovrò fare anche negli anni successivi. Immaginiamo un po' meno. Immaginiamo la metà. Che è successo alla mia cura di ammortamento? Naturalmente sarà aumentata. Non è più 12,5 fisso, ovviamente. Stessa cosa vale anche per le materiali. I materiali può essere, se stiamo parlando di un'azienda di produzione, sono tipicamente macchinari. Se stiamo parlando di un negozio, può essere tipicamente l'immobile nel quale svolgo l'attività commerciale. Se stiamo parlando di un'azienda informatica, sono tipicamente i PC. La mia esperienza mi dice che se stiamo parlando di un'azienda digitale, il primo anno gli investimenti tangible, come si dice, sono questi. E che più o meno negli anni successivi, diciamo per prudenza, mettiamo la stessa cifra tutti gli anni. Questa tabella non ve la sto a spiegare perché vi comprico solo delle idee da un punto di vista contabile, ma non ve ne preoccupate perché alimenta direttamente. Ecco, diciamo che in futuro, io vi consiglio, se dovete strutturare un business plan, cercate di usare questo modellino che viene abbastanza facile. Vedete che la quota di ammortamento è diventata sensibilmente più alta. Ok. E adesso cominciamo a complicarci l'esistenza sul piano concettuale, ma qui cominciate a entrare un po' nel vivo. Concentriamoci su questo valore. Il moll, l'ebitda, come lo chiamano gli inglesi, gli anglofoni. In un mondo perfetto, dove tutto quello che si vende si incassa a pronti, e dove tutto quello che si compra si paga per contanti, il moll, l'ebitda, è esattamente la cassa prodotta o bruciata dalla gestione. Se questi ricavi mi vengono pagati esattamente nel momento in cui ho fatturato, se questi servizi e questi stipendi e questa attività di marketing vengono da me pagati esattamente nel momento in cui li acquisto, e quindi nel momento in cui ricevo la fattura, la differenza fra questi ricavi e questi costi è esattamente la cassa che io ho bruciato in quell'anno. Io so che in quell'anno non solo ho venduto 678 mila euro di roba, ma ho incassato 678 mila euro di roba. Non solo so che ho sostenuto costi, lo vedete qui sotto, per un milione e 33 mila euro, ma ho cacciato soldi per un milione e 33 mila euro. Le ho pagati tutti quei costi. Alla fine dell'anno io o trovo da qualche parte 355 mila euro, o fallisco. Ma il mondo non funziona così. l'ebidda è molto importante perché è la misura catturabile da un conto economico che più di ogni altra si avvicina alla cassa prodotta o bruciata dalla gestione caratteristica. In un mondo perfetto dove si incassa e si paga a pronti, sarebbe esattamente la cassa prodotta o bruciata dalla gestione caratteristica. Ma il mondo non è perfetto. Quando si vende non si incassa subito, ma si incassa dopo 90, 120 giorni? Dipende da dove stai. 90 è una buona media nazionale. L'Istat calcola che mi pare che sono 82 giorni sono i giorni medi di incasso. E' una grande sciocchezza perché in quegli 82 giorni pesa, siccome sono ponderati per i volumi, pesano i volumi generati dalle aziende molto grandi che sono quelle che pagano meglio. Se fosse fatta una media semplice dei tempi medi di incasso di tutte le aziende italiane, indipendentemente dalla dimensione, il valore secondo me si approssimerebbe a 150. Una volta ho fatto un investimento in un centro diagnostico, quindi qualcosa che fa le analisi del sangue, la PET, la tacca, la gente e che quindi incassa presenta fattura al Servizio Sanitario Nazionale, alle ASL, e incassa quando le ASL si ricordano di pagare nel momento in cui ci hanno i soldi, perché alle volte si ricordano di pagare quando non ci hanno i soldi oppure ci hanno i soldi e si dimenticano di pagare, quindi ci vuole una congiunzione a strade favorevole, cioè che ci hanno i soldi e si ricordano di pagare e allora si è fortunato e ti hanno i soldi. Nel piano abbiamo messo come giorni medi di incasso questo numero qua e ahimè è il risultato approssimato per difetto, perché in realtà i tempi di incasso superano i due anni. Sanità napoletana però, meglio qualche volta diciamo come noi nessuno, però non siamo molto lontani. 90 giorni è un tempo minimo accettabile in un business plan ma dipende molto dal business. Se il vostro business è vendere un'app qual è secondo voi il tempo medio di incasso? Non c'è ritardo negli incassi? se il vostro business invece è lavorare con le ASL è più di un anno. Quindi dovete va molto tarato sul tipo di clienti quanto più ci si avvicina al consumer tanto più i giorni medi di incasso si approssimano a zero. Però lì prende piede un'altra voce che non nel caso delle app se voi vendete al consumo direttamente al consumatore e non paga per cassa il consumatore fosse anche una sola settimana di ritardo non mi viene in mente il business ma mi verrà fra poco fosse anche una sola settimana di ritardo la prima voce che dovete mettere nel vostro conto economico è la svalutazione dei crediti perché sui consumatori la possibilità che il consumatore non paghi aumenta notevolmente se la faccio fuori nessuno si prende con lei andate scusate no stava cominciando a dare no prima c'era il nesso lì e rompeva le scatole a lui ho visto tutto il tempo stava così a fare mo se era affezionato a me ho detto no qua ci abbiamo a lavorare però sono stato punito dal nostro signore vedi è vero che c'è una giustizia divina non far del male nemmeno una mosca salvo non è un problema mio mi rendo conto però non mi fa piacere va bene che succede quindi che incassiamo dopo 90 giorni quindi nel mio stato matrimoniale questo è il proprio se lo sa mia moglie nel mio stato patrimoniale si come dire si illumina una casella quella dei crediti verso clienti che significa io ho fatturato quest'anno 678 mila euro alla fine dell'anno 169 mila euro di questi 678 non li ho incassati se fate 169 diviso 678 vi viene esattamente lo stesso rapporto che c'è fra 90 ovvero i giorni di reazione e 360 che la durate in un anno sta qua sopra vedete sulla casella C58 se io qua metto 120 guardate che succede in C58 si confia se io metto 360 è esattamente il fatturato cioè tutto il fatturato dell'anno non l'ho incassato perché concedo dilazioni pari all'anno quindi anche il primo euro fatturato il primo giorno ancora lo devo incassato a fine dell'anno e teniamo la 90 c'è anche una parte di costi che io non pago per cassa gli stipendi li pago per cassa sta poco da fa sul marketing dipende se ciò se sto comprando roba da Google devo pagare per cassa anzi prima pagare moneta vedere cammello con Google è proprio la sua regola di base ma se sto comprando della pubblicità fisica per esempio o comunque attraverso una web agency sicuramente pago a termine non pago a pronti l'affitto al padrone di casa magari lo pago con 10 giorni di ritardo lo spazio server più o meno magari riesco a prendere un minimo di dilazione ah scusatemi anche per dirvi nei servizi io ci ho messo questo ci ho messo gli affitti ipotizzando che c'ho una sola sede il primo anno ne ho due nel terzo anno e tre nel quarto anno ci ho messo lo spazio server che ho immaginato più o meno proporzionale al fatturato e ci ho messo dei costi generali per varie ed eventuali missioni trasferte spese ristoranti che ne so io e questa somma l'ho chiamata costi per servizi che più o meno cresce con il crescere del valore della produzione allora mentre il personale che è questo qui lo devo pagare tutto per cassa sicuramente mettiamolo giallozzo questa roba qui che invece è un fornitore esterno non è interno anche se lì dentro c'è Google magari un minimo di dilazione lo posso ottenere ma un minimo perché se pensate al peso di Google io ho più di 10 giorni di ritardo in tutto l'importo su tutti i circa 700 mila euro che stanno qui dentro più di 10 giorni di ritardo come valore medio non ce lo posso avere però siccome ho questo minimo di giorni di ritardo avrò debiti verso fornitore alla fine dell'anno per 20 mila euro anche qui scusate lo sta l'ho perso è questo lo vedete se io qui metto 3,60 no 2.360 se metto 3,60 esce fu una stonzata no no non è una stonzata è una cosa circostanza particolare vedete 687 diventano i debiti verso fornitori cioè esattamente la somma di questi due vuol dire che arrivata alla fine dell'anno non ho pagato nessuno ma google lo caccia non si fa pagare ritorniamo a 10 chiaro come si formano clienti e fornitori chiudiamo un attimo il capitolo sulle immobilizzazioni vi ricordate che all'inizio dell'anno noi avevamo investito 50.000 in immobilizzazioni immateriali vedete è questo qui 50 in immateriali e 50 in materiali ma nel mio bilancio alla fine dell'anno quando faccio la fotografia di tutte le cose che ho in pancia metto il valore residuo di quelle attività cioè il costo sostenuto per acquistarle meno l'utilità che hanno ceduto in quell'anno cioè meno il loro consumo cioè meno la quota di ammortamento allora visto per le tangibili 50 è quello che ho speso 3,7 e 50 è la quota di ammortamento 46,2 e 50 è il valore netto alla fine dell'anno ed è quello che mi metto in bilancio chiaro questo? in effetti qui lo vedete meglio io ho splittato i 50 che ho speso in due componenti che sono questa e questa cioè la componente di costo dell'anno 3,7 e 50 il valore residuo alla fine dell'anno 46,2 e 50 stessa cosa per le immateriali le immateriali si consumano più velocemente è così chiaramente qui c'è una media del pollo ogni bene che voi mettete in bilancio ha la sua aliquota di ammortamento cioè la percentuale di consumo annuo questa è una media del pollo in cui io dico salomonicamente che ecco qua le immobilizzazioni materiali si ammortizzano del 15% all'anno quelle immateriali del 25% all'anno ovvero in quanti anni perdono completamente valore? 4 anni in 4 anni le ho consumate e allora avrò ripeto qui la quota di ammortamento dell'anno 10.000 qui il valore netto la cui somma è quella che vedete qui infatti 90 valore netto più 10 ammortamenti uguale 100 giusto ve ne faccio vedere una l'anno dopo l'anno dopo che succede? avevo investito 50 l'anno prima e investo altri 50 avevo ammortizzo 11.250 avevo già ammortizzato per 3.750 l'anno prima quindi il mio valore residuo a fine anno sarà 50 dell'anno scorso 50 di quest'anno meno meno la quota di ammortamento di quest'anno meno la quota di ammortamento dell'anno scorso uguale valore netto lo ripeto anche qui 50 comprate l'anno scorso 25 comprate quest'anno meno il consumo di quest'anno meno il consumo dell'anno scorso uguale valore netto valore netto di tutte le immobilizzazioni che sono nel mio bilancio è la somma di questi due valori netti che leggete qui sotto 138 125 eccolo qua vi prego di osservare solo una cosa il consumo di quest'anno è la somma del consumo di un anno intero di quello dell'anno prima cioè il 15% di 50.000 ve lo scrivo qua 15% di questi 50.000 più la metà di quello di quest'anno ovvero più questo per questo no scusate più questo l'investimento di quest'anno per la rigola di ammortamento diviso 2 la somma di questi due 11,250 eccolo qua poi c'è la quota di consumo dell'anno scorso questa sarebbe questa quindi il consumo dell'anno scorso più il consumo di quest'anno è il consumo totale dei miei beni in bilancio è una cosa un po' più scocciante da seguire però volevo farvi capire che vuol dire che cos'è l'ammortamento e che vuol dire che un bene levesce ma il morale della favola io posso dire nel mio bilancio alla fine dell'anno ho un valore residuo delle mie capex come si chiama il capital expenditure le mie immobilizzazioni pari a 138.000 euro ho speso in realtà quanto ho speso io ho speso questo più questo più questo più questo ho speso 175.000 euro che hanno un valore residuo alla fine di quest'anno di 138.000 euro il resto si è consumato ed è andato in ammortamenti nel conto economico poi c'ho crediti verso clienti per 328.000 perché perché su un fatturato di 1.314.000 gli ultimi 90 giorni non mi hanno pagato e quindi ho 328.000 euro di crediti io non ho pagato un po' di fornitori per 21.000 euro che cosa mi dice questo mi dice che il mio capitale investito è 445.000 euro attenzione questo è un punto delicato da capire che cos'è il capitale investito netto il capitale investito netto sono i soldi di cui io debbo disporre per tenere in piedi la macchina devo disporre o devo averne disposto in passato cioè è esattamente quello che io fino ad oggi ho investito in questa azienda io ho investito o meglio è il valore il valore residuo di quello che ho investito in questa azienda i 138.000 euro più siccome non mi hanno pagato altri 307.000 euro che è il saldo fra quello che non mi hanno pagato e quello che non ho pagato io se io qui metto zero a tutte e due scusate lo metto qui così si azzera tutto guardate che succede al mio capitale investito netto sono solo le immobilizzazioni perché perché tutto quello che ho venduto me l'hanno pagato quindi non ho bisogno di investire di mettere da parte altri soldi per far girare la macchina ma siccome non è vero che mi pagano tutto io ho bisogno di più soldi per tenere in piede la macchina esattamente quelli che non mi pagano al netto di quelli che io pago questa è la parte che sfugge a tutti quando si fa un business plan ed è una parte molto pesante adesso vi farò vedere meglio perché il perché lo capite in questo ultimo prospetto che è quello più stronzo di tutti se mi posso permettere perché è quello che vi dice esattamente questo che è il numero magico che tutti gli investitori vogliono conoscere cioè alla fine dell'anno in realtà tu quanto hai bruciato oppure quanto hai prodotto ed è fatto così prima di tutto il margine operativo lordo margine operativo lordo vi ricordo è questo qui la differenza fra i ricavi e i costi della gestione caratteristica se mi va a fuoco lo stabilimento e devo spendere dei soldi per ripararlo non è un costo di gestione caratteristica se mi si rompe il tubo dell'acqua non è un costo di gestione caratteristica è un costo straordinario non incide sul mio margine operativo lordo ma se devo pagare gli stipendi quello incide sul mio margine operativo lordo quindi questo è quello che io ho generato o ho bruciato nella gestione caratteristica rimetto di nuovo zero qua e vado nel prospetto dei flussi bene lo so ho perso 355 mila euro dalla gestione caratteristica perché perché quello che ho venduto qui ho immaginato che fosse tutto per cassa ho venduto roba ho dovuto sostenere costi i costi che ho sostenuto hanno superato la roba che ho venduto per 355 mila euro ho fatto investimenti per 100 mila attenzione qui vedete non c'è più l'ammortamento perché qui stiamo misurando esattamente i soldi che ho tirato fuori io non ho tirato fuori il valore residuo di quello che ho all'inizio dell'anno qui sto misurando esattamente i soldi che ho speso e io ho speso 100 mila euro in quell'anno di investimenti e quindi il mio cash flow operativo cioè quello che io ho bruciato per far girare la macchina quest'anno sono 455 mila euro ovvero 100 di investimenti fatti e 355 di maggiori costi rispetto ai ricavi di maggiori uscite rispetto alle entrate chiaro qui siccome essi soldi da qualche parte me li sono dovuti procurare se non ce li ho messi io in azienda me li ha dati una banca ma la banca si fa pagare per il denaro si fa pagare questi gli oneri finanziari che quindi è un'ulteriore uscita di denaro che devo sostenere alla fine tutto quello che io ho tirato fuori sono 495 mila euro se avessi guardato soltanto al conto economico avrei detto che erano 355 per la verità più gli oneri finanziari erano 394 in realtà sono di più perché ci sono anche gli investimenti e quindi tutto quello che tiro fuori sono quasi 500 mila euro attenzione perché ci manca un pezzo molto importante quello a cui prima ho dato valore zero e a cui restituisco valore e guardate che succede è belli cazzi vi invito a constatare la differenza la voce è questa qui la metto in rosso così si vede così così il mondo perfetto in cui si incassa e si paga in contanti così mondo reale in cui non si incassa e si paga per contanti si incassa a termine e si paga un poco a termine la differenza fa esattamente 150 mila euro questi sono i soldi di cui ho bisogno per finire l'anno se nell'arco dell'anno io non trovo 660 mila euro questa cosa come non la posso fare ed ecco ecco che qui devo dire devo cercare un fondo e mi devo far dare 660 mila euro vedete che per magia mi resta qualcosa in cassa dice com'è me ne servivano 6 e 58 ne chiedo 6 e 60 e me ne trovo 55 e si perché la gestione finanziaria se c'ho i soldi questo immagina che i soldi io ce li abbia al tempo zero tutti quanti se c'ho i soldi al tempo zero tutti quanti non ho mai debiti per tutto l'anno quindi non pago nei finanziari anzi addirittura ho un po' di interessi attivi e quindi con 660 mila euro mi restano 55 mila euro e quindi facciamo cifra tonda me ne servono 600 mila che sarà alla fine mi mancano solo 6 mila euro per pareggiare il conto fin qui è tutto chiaro se avete dubbi li trovate adesso perché sennò vi perdete il passaggio successivo adesso devo andare la domanda non sto scrivendo adesso mi fai un po' da regia mi devi ballare fra i flussi e il patrimoniale salio un po' dammi per i crediti verso green fermi 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 crediti verso green here 1 here 2 here 3 here 4 per se che non si vede poco questo no non c'è speranza ci vuole prendere lì mazza come fai da sta cosa bicca sai che ci sta qua dentro mamma mia no ma fatti una pipata bellissima grazie mille verde e speranza questi sono i 4 anni del mio piano sintetizzo i crediti scusa vai un attimo scendi un po' scendi un po' dove c'è 10 il primo 10 cancella per pura semplicità faccio finta che tutti i costi li pago per cassa tanto in una start up è così nessuno vi fa credito adesso torna dammi crediti e rimati là perfetto allora year 1 sono 169 year 2 329 year 3 572 839 vai su nei ricavi fermo questi sono i crediti questi sono i ricavi 6 7 8 1 3 1 5 2 2 9 2 e 3 3 3 5 7 giù flussi ok prima mostra qua allora il primo anno io incasso 678 non me ne pagano 169 c'è qualche ingegnere in sala c'è qualche ingegnere quanto fasi 178 meno 169 tu sei ingegnere non sei titolato ma sai una cosa non fai ebbè dimenticato questo è quello che incasso 509 509 vedi che si vede subito che io non sono ingegnere ho venduto 678 169 non mi hanno pagato ho incassato 509 anno dopo quindi diciamo se la mia vita si fermasse qui e io avessi costi pari ai ricavi saprei che 169 da qualche parte li devo andare a trovare se no fallisco perché non posso sostenere i costi che succede l'anno dopo l'anno dopo fatturo un milione e tre e quindici e 329 non me li pagano aspetta dov'è dire non sei ingegnere no non ho capito che ci devo mettere qua che numero devo mettere qua l'incasso meno i crediti hanno i crediti di quest'anno ma chi sta lavorando in economia in NF è facile devo mettere che succede questi qua erano i crediti dell'anno scorso che in quest'anno io l'incasso si spera ne incasso 169 e non ne incasso 309 quindi qua quello che incasso in quest'anno è 1.315 più 169 meno 329 ma la possiamo dire in un altro modo e 1.315 tanto algebricamente è la stessa cosa 1.315 meno la differenza fra questo e questo la differenza fra questo e questo è questa qui quella è la parte che io non incasso in quell'anno è la parte del mio fatturato di sempre che io non incasso in quell'anno la parte del mio fatturato di quell'anno che non ho incassato in quell'anno è questa qui la parte del mio fatturato di sempre che io in quell'anno non incasso è la differenza fra questi due. Non mi guardate male, questa cosa deve essere chiarissima, se no vi perdete. Mi permetto di fare l'esempio anche per l'anno dopo. L'anno dopo io vendo 2.292, incasso 329 che non avevo incassato l'anno scorso, non incasso 572 che ho venduto quest'anno. Quindi se voglio vedere quello che ho incassato in quest'anno, dico, tanto ho venduto, tanto ho incassato l'anno prima, non ho incassato quest'anno. Quindi, tanto ho venduto, meno quello che non ho incassato di quello che ho venduto quest'anno, farà questo meno questo? Intorno ai 1.700. Quindi quello che ho fatturato quest'anno ho incassato circa 1.700. In più ho incassato 329 che non avevo incassato l'anno scorso. Quindi quanto è tutto? 2.049. 2.049. Questo è quello che ho incassato quest'anno. La parte in più che non ho incassato quest'anno è la differenza tra questo e questo, ancora una volta. Ovvero 244.157. Sto gioco, se io continuo a crescere col fatturato, non finisce mai. Ho sempre bisogno di soldi. Anzi, più cresco, più ho bisogno di soldi. Questa è una cosa che nelle start-up si fa molta fatica a capire. Noi lo chiamiamo il dramma della crescita. Cioè crescere è una bella cosa, ma per farlo ci vogliono i soldi. E mi riprendo il posto. Grazie della regia. Se voi fondaste il vostro piano solamente su questo qui, stareste commettendo un errore della Madonna. Un erroraccio brutto. Perché? Perché state fondando le prospettive del vostro business solo sui ricavi. Ma ci sono anche i costi. E dice, vabbè, guardo il mio business da questo punto di vista. Da questo punto di vista mi sembra di leggere che mi ci vogliono, quello che sta qua sotto, 575 mila Euro. Lo vedete lì sotto piccolo piccolo? C'è la somma di queste due perdite operative. Poi cacchio, il terzo anno, 479 mila Euro di margine operativa d'ordosso, a posto, sto al cavallo. Qua 1.400 Euro, voglia di fare. E avete dimenticato che state investendo investendo e che avete dimenticato il vostro capitale investito. Avete dimenticato che state investendo e che alcuni clienti non vi pagano. Cioè che i clienti vi pagano il ritardo. In realtà i soldi di cui avete bisogno sono questi. Scusate, i 600 all'aria li togliamo. Lo scriviamo qui. I soldi che vi mancano sono questi qua. I soldi che mi mancavano guardando solo il conto economico. Sono questi qua. È mostruosa la differenza. Proprio mostruosa. Quindi non guardate mai un business plan soltanto dal punto di vista del conto economico. Tanto meno se il vostro è un business che cresce molto, tanto meno se il vostro è un business dove si vende a credito. Aine. Second question. Guardatevi questo conto economico. Faccio un attimo una cosa. Ve lo rendo visuale che è molto più facile. Faccio un attimo. Anzi, mettiamoci anche una terza linea. Questo è spettacolare. Metto in un'altra posizione. Vi prego di soffermare un attimo l'attenzione su questo grafico. Uno dei presupposti che un venture capitalist ricerca in un investimento è il concetto, anzi adesso ve li dico tutti, così sapete esattamente che cosa dovete cercare e la prossima volta ci sarà Augusto Coppola che è una persona molto particolare, poi vi darò due parole su di lui, che vi dirà come comunicare con gli investitori e confrontatevi anche con lui sugli elementi che io sto per dire. Per me ci vogliamo quattro cose per comunicare con un investitore. Vantaggio competitivo. Cioè voi dovete fare una cosa che o la sapete fare solo voi, o la potete fare solo voi perché ci avete proprietà intellettuale, ci avete un brevetto, o la sapete fare meglio degli altri, o gli altri se la vogliono fare come la fate voi ci devono mettere un sacco di tempo, o gli altri se la vogliono fare come la sapete fare voi ci devono mettere un sacco di soldi. Diciamo questi quattro o cinque principi stanno in un libro così, che si chiama Il vantaggio competitivo, scritto da un signore che si chiama Porter, che è un guru americano di questa, ma in sintesi è questo qui, il concetto. Questo vuol dire che quando noi guardiamo un progetto, la prima cosa che ci viene in mente guardandolo è e mazza ma sta cosa arriva il giorno dopo o Google o Antonio Esposito e ti spazza dal mercato, oppure se qualcuno ti vuole spazzare via, e beh ci deve, o ti deve comprare o comunque, insomma non la fa tanto facile, cioè hai costruito qualcosa che ha un senso. Nel digitale qualcosa che ha un senso è una piattaforma che funziona bene e delle metriche interessanti, cioè cose che per farle devi perdere tempo, la piattaforma, e devi spendere soldi, le metriche. È un asset questo. E rappresenta vantaggio competitivo. Perché tipicamente un investitore difficilmente investe in una start-up digitale soltanto partendo dall'idea? Perché non c'ha né la parte dove ci vuole tempo, cioè la piattaforma, né la parte dove ci vogliono soldi, cioè le metriche. È solo un'idea. Quando invece ci hai speso tempo, quindi uno che vuole fare la stessa cosa deve perdere tempo, e ci hai speso soldi, quindi uno che vuole fare la stessa cosa deve spendere soldi, allora comincia ad avere un valore. E quanto più è forte il valore del fattore tempo, cioè quanto più è solida, robusta e difficile da copiare la piattaforma, tanto più è forte il valore di quell'idea. Ovviamente, se stiamo parlando di roba tipo, che vi posso dire, Groupon, Groupon è una piattaforma da 4 soldi, ed è tutto metriche, perché è tutto base utenti. Il valore di Groupon sono gli utenti registrati, niente altro. Per mantenere quella soglia, quel livello di utenti registrati, Groupon, soltanto in Italia, spende 2 milioni di euro al mese. Al mese? Al mese. Questo significa web marketing. 2 milioni di euro, è tutto web. Avete mai visto una pubblicità di Groupon sui giornali? Io no. Ok. E questo è la prima, vantaggio di un periodo. Quella la metto per ultima. La seconda cosa, che è una cosa di cui, diciamo, ci convinciamo nel corso dell'analisi, e la triple M, manager, 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 man, 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 l'uomo, il team. Alla fine dovete pensare una cosa, noi siamo gente che portiamo in giro soldi, che non sono nostri, ma sono di chi ce li ha affidati, e li diamo in mano a qualcuno che li deve far fruttare. Non abbiamo mediamente competenze tecniche nel business in cui stiamo investendo, non abbiamo un ruolo manageriale, quindi non possiamo incidere sui processi del business in cui stiamo investendo. Dunque, ci dobbiamo fidare. Ci fidiamo fino a un certo punto perché, in qualche modo, imbrachiamo la macchina con delle regole di governance contrattuali, ma comunque, anche con le migliori e più stringenti regole contrattuali di governance, comunque ci dobbiamo fidare della capacità e delle abilità e dell'onestà dell'imprenditore. Abilità e l'onestà sono i due fondamentali. Per cui si deve essere anche un po' psicologo in questo mestiere. Più o meno il 60-70% dei deal che abbiamo visto cade per l'imprenditore. In realtà, quando non c'è un imprenditore solido, molto spesso non c'è nemmeno un'idea solida. E' il motivo per cui stanno nascendo tanti percorsi di accelerazione, cioè quei percorsi di pseudoformazione che servono a dare agli start-upper, a quelli che vogliono diventare imprenditori, impillole gli elementi fondamentali per accelerare il percorso verso il mercato. Quello che oggi noi stiamo facendo su Business Plan è in effetti un modulo di un percorso di accelerazione. Perché? Perché se voi volete imparare a fare il Business Plan da soli, magari ci mettete un mese, dopo due giorni qua dentro io mi auguro e spero che poi magari ci mettete una settimana se volete costruirlo, e non più un mese, perché per farlo da soli dovreste studiare i libri, magari non vi verrebbe nemmeno oltretanto bene. Poi non è così, magari, sto dicendo sciocchezze, però l'idea è quella lì. Allora, prima cosa vantaggio competitivo, seconda cosa uomini. Terza cosa, mercato. Sta roba che vogliamo vendere, ha un senso nel mondo o no? Mercato ha due facce, la domanda e la competizione. La domanda significa che stiamo andando in un trend in crescita. Se oggi potessi entrare nel mondo dei coupon, della scontistica, direi che sto facendo una cazzata, perché quello non è un mercato, è un mercato che fino ad oggi ha fatto così, adesso sta facendo così, se non si rivitalizza probabilmente comincia a fare così. Lo sapete meglio di me, che se uno compra il buono di Groupon e va in un ristorante, viene guardato storto appena entra. E questa è una cosa che sta generando fastidio nella gente. Allora, o trovano nuovi strumenti per invertire la tendenza della curva, oppure scende così. Siccome noi siamo grossomoro da queste parti, se oggi uno mi viene a dire, voglio fare un, ho inventato una nuova cosa di scontistica, o è una cosa che mi riporta in questo senso, ma se è one more, io dico no, perché il mercato non c'è. L'altra faccia del mercato sono i competitor. Se uno mi viene a proporre una cosa di scontistica, io gli dico Groupon spende 2 milioni di euro al mese, con una piattaforma, la piattaforma non serve in questo mestiere, servono gli utenti. Groupon fa 2 milioni di euro al mese di pubblicità, tu chi sei? Chi è che ce l'ha fatta in Italia a prendere soldi dai venture capitalists? Glamour. Glamour mai sentito? Perché? No, perché Glamour è figo, o perché c'ha più soldi di Groupon, o perché c'ha soldi quanto c'è nel Groupon. Perché ha fatto l'accordo con Pagine Gialle. Quanti soldi ha preso? Ma penso 2-3 milioni, non cifre. Quello che serve per partire. No, poi dopo devi cavartela da solo. Non lo so esattamente quanto ha preso, ma credo in quell'ordine di te. Quando la stavamo guardando noi, chiedeva più o meno tanto. Allora, lì c'è un asset che ti permette di combattere sul mercato, cioè il fatto che è un accordo di partnership molto importante, che si chiama Pagine Gialle, ma se no, sei one more e i soldi non te li do. Mercato è la terza. Quindi, ripeto, vantaggio competitivo. Team, mercato. E mo' c'è questa. Scalabilità. E' il quarto fattore. Un venture capitalist non investe in business non scalabili. Che significa scalabilità? La scalabilità significa, tecnicamente, che all'aumentario dei ricavi, i costi aumentano in misura meno che proporzionale all'aumento dei ricavi, e quindi il margine aumenta in misura più che proporzionale all'aumento dei ricavi. Questa curva è la curva di una start-up scalabile. Dove nasce la scalabilità? Nasce dal fatto che all'inizio io ho dovuto fare un investimento pesante. Questo è l'integrale del mio investimento, se vogliamo, no? Compresa fra la linea delle ascisse e la curva rossa, fino al punto in cui intersega. Questo guardando soltanto i costi, che come abbiamo visto, l'investimento invece è anche più pesante. Però questo investimento che ho fatto, e che mi ha fatto buttare il sangue per i primi anni, a un certo punto comincia a dare i suoi frutti, e li dà in misura crescente. E guardando il conto economico, esco un attimo dal grafico, lo capite pure meglio. Qual è il costo? Vedete com'è la curva dei costi? Facciamo anche questo. Però sta cosa non mi torna, c'è di essere un elettore del modello. No, c'è un elettore del grafico. Non è possibile. I costi crescono tutti, perché mi cale dopo, a quattro anni? Aspetta, secondo me c'è qualcosa. Ah, perché mi devo mettere l'asse della scissola. Mi inverto gli assi. Vabbè, non voglio perdere tempo, non vi voglio far perdere tempo. Comunque, il fatturato l'avete visto voi stesso, guardate che inclinazione ha. La curva del fatturato fa così. Il marketing, che è il costo più forte, in questo caso, per quello che abbiamo immaginato, invece si mantiene più o meno costante. Perché? Perché l'investimento iniziale che ho fatto, che come vedete era mostruoso, se paragonato al mio fatturato, praticamente io tutto il fatturato l'ho investito in marketing all'inizio, quell'investimento iniziale mi ha consentito di creare, e poi l'anno successivo consolidare, una base utenti, che diventa il mio asset, sul quale faccio leva. Questa base utenti è stata attratta verso una piattaforma, su cui ho speso 500 mila euro, sulla quale adesso faccio leva. A quel punto i miei commerciali, che sono pure un bel costo, quelli che vanno in giro a vendere, sì, vedete, il costo ha una bella curva di crescita, cresce più o meno come il fatturato, sicuramente l'ultimo anno c'è un errore, ma comunque, per quanto possa crescere, non mi va sostanzialmente a intaccare questa mostruosa crescita del marbine. Vedete che gli elementi su cui ho fatto leva nei primi anni, che sono fondamentalmente queste quattro voci, che assommano a un milione e sette, sono quelli che mi consenso, i quali adesso faccio leva, negli anni a venire, perché ho una piattaforma solida e una base utenti solida, e mi consentono di fare ricavi semplicemente mantenendo l'investimento fatto in precedenza. È chiaro cos'è la scadabilità? Torno sul grafico. Se voi pensate a business di consulenza, per esempio, engineering, non engineering, la società informatica, l'attività di engineering, chi sviluppa progetti per terzi. Quello è un business altamente rispettabile, dove ci vuole una competenza tecnica molto forte, e dove la reputazione può rappresentare la chiave di una vita, perché se tu sei bravo a progettare, ti farai pagare bene per tutto il resto della vita. Ma se vuoi guadagnare di più, devi lavorare di più. Non scali. Non è un business che scala. Vi ricordate di quello che va raccontato di quella piattaforma che non si capiva niente che fa, l'intelligenza artificiale? Quello sviluppa un tool per chi fa engineering. Un attrezzo che è informatico, ma è come se fosse il martello del falegname, è un attrezzo per chi fa engineering. Lui può scalare, perché lui, l'investimento, l'ha fatto forte sulla piattaforma per creare un motore che funziona, e adesso lo deve fare sulla parte di marketing, si deve andare più ai clienti. c'è anche una componente di consulenza pesante, lui, vabbè, perché va customizzata la cosa molto spesso, però l'investimento pesante è stato fatto sul motore iniziale, sul tool, sulla costruzione del martello per il falegname. Una volta che avrò gettato il martello, a fare il martello non c'era niente. È tutto margine. Questo, se e solo se, quel martello lo sa fare soltanto lui. se invece ha fatto una cosa che un altro fa in una settimana ha perso tempo, ma verosimilmente quello che ha fatto è una cosa che ci vuole un bel po' di tempo per replicarla. Allora, chi fa engineering non scala. Lui, che produce tool per chi fa engineering, scala, perché più tool vende, più soldi fa, tanto non deve spendere altro per svilupparli. Dovrà fare un investimento di marketing, ma questo gli servirà a creare una base utenti che poi resta lì solida e va soltanto mantenuta nel corso del tempo. Chiara la scalabilità? Pausa?